Circa 30.000 persone alla 69esima fiera dell'Epifania, nonostante la nevicata che ha spolverato l'Aquila nel primo pomeriggio, e gli spazi ridotti, visto che molte strade e piazze del centro storico sono state lasciate vuote per motivi di sicurezza. Un successo comunque, secondo gli organizzatori della Federazione Ambulanti, la FIVA, della ConfCommercio, e il presidente Alberto Capretti ora punta a coinvolgere anche la regione Abruzzo in vista del settantesimo anno della fiera. Dovrà essere una festa, un'edizione speciale, vogliamo tornare a sfondare quota a 500 banchetti, ha dichiarato. Ma come tradizione vuole c'è anche un altro bilancio, quello stilato dalle forze dell'ordine relativo a scippi e merce sequestrata. Ovvero tre ordini del quest'ora lasciare il territorio nazionale entro sette giorni nei confronti di venditori extracomunitari senza permesso di soggiorno, quattro fogli di via cittadini italiani, tutti campani, con precedenti penali, 4.000 capi di merce varia sequestrata, in gran parte perché merce contraffatta, 150 contravvenzioni per divieto di sosta e ostacolo alla circolazione. Le denunce per borseggio, pari a 15, sono comunque in calo rispetto alle edizioni precedenti. Colta con le mani nel sacco, meglio dentro la borsetta, una donna originaria della provincia di Salerno che aveva rubato un portafoglio, contenente circa 100 euro e numerosi documenti. La donna è stata denunciata a piede libero.